Ciao a tutti, come promesso ecco le recensioni a caldo di Lords of the Fallen ho appena finito il gioco appunto dopo avervi fatto vedere la recensione della prima ora di gioco in cui non ero rimasto molto entusiasmato, anzi il gioco non mi stava piacendo quasi per niente l'ho rivalutato, è un gioco che merita secondo me un 7,5 su 10 che dire, la grafica è veramente bella, non è a 1080 di risoluzione però comunque è decisamente godibile all'inizio è veramente difficile, nel senso che il personaggio è stralento nei movimenti è debolissimo e quindi fa passare la voglia di giocarci vi consiglio appunto se lo prendete di andare oltre questo ostacolo iniziale perché poi cominciando a potenziare il personaggio acquisisce effettivamente molte velocità diventa molto forte e il gioco diventa facile, cioè da parte è difficilissimo e pian piano diventa semplice ho fatto meno fatica a uccidere il boss finale piuttosto che il primo che ho incontrato quindi che dire, un RPG molto divertente, non è lunghissimo perché, ah ecco, punto negativo non ha una mappa, quindi vi ritrovate a girare in un mondo abbastanza grande non è un open world ma quasi, senza mappa diventate scemi perché alla fine della fiera è tutto abbastanza vicino e facile da trovare però se non sapete dove andare è davvero un casino quindi diciamo che la longevità di questo gioco è portata dal fatto che dovrete girare come degli scemi per trovare le cose quando in realtà ce l'avete sotto il naso se ci fosse stata una mappa il gioco si finisce tranquillamente in 5-6 ore mi sa comunque 7 e mezzo se volete vedere la recensione completa la trovate su www.doesnmatter.it ciao